Allora questo non ho sperato che venga, non c'è Gladiatore 2, non ci sono Wicked o altri filmoni dell'ultima ora, Oceanie, questo è il film che aspettavo più di tutto l'anno, ho tenuto bassissimi, io io io, tenevo bassissime le aspettative perché appunto ormai è È troppa la paura di essere delusi Esattamente, esattamente, stiamo parlando, sto parlando di Piece by Piece, il documentario della vita di Farrell Williams, quello di Happy e Get Lucky, ma anche tantissime altre cose Documentario diretto e coprodotto da Morgan Neville, che racconta effettivamente la vita e la carriera di Farrell Williams, però con una modalità particolare, cioè attraverso l'animazione Lego Immagino che sia andato un po' come dice lui all'inizio, cioè lui è andato e ha detto io voglio fare questo commentario, sì, ma se lo facessimo coi Lego? Sai, sarebbe fico se raccontassimo la mia storia con i mattoncini Lego, questo è il modo migliore in cui posso essere totalmente me stesso senza sentirmi strano, aprire la mente Qualcuno gli ha detto di sì, ora non so se è andata proprio così però Allora iniziamo dalle cose che mi hanno travolto assolutamente e questo creativamente parlando è un'idea incredibile Perché appunto da amante, dopo aver visto tantissimi documentari musicali, anche il documentario con appunto la telecamera fissa, il set, come è andata, cosa è successo, la progressione cronologica del racconto dell'artista XYZ È sì, molto Rai 5 Rock Legend è un format ormai molto presente nel nostro cuore e nei nostri occhi Farlo invece con un guizzo in più aumenta anche la possibilità di creare, inventarsi cose E i Lego effettivamente grazie anche ai film che hanno uno sdoganato Ma prima dei film dei Lego del franchise, del mondo Lego, moltissimi videogiochi della Lego portano anche a livello appunto di narrazione Una possibilità anche del videogiocatore di plasmare e di modificare la realtà anche per appunto, come si vede nei film Anche per giocare, fare delle azioni attivamente nel mondo che ha i Lego dentro, all'interno dell'universo In questo film si usano i Lego proprio per scavalcare l'ostacolo della verosimiglianza, della ricostruzione più che altro storica Anche un po' della banalità, no? Anche sì, della noia vera e propria per creare e ricreare la storia in progressione classica del cantante, dei Neptunes C'hai visto un po' di... Ora dirò una cosa che mi insulterai Del serie sugli 883 No, perché vi spiego il mio punto di vista Soprattutto ovviamente nella prima parte Che è la parte dedicata al modo in cui Pharrell Williams Ha trovato il proprio talento e lo ha anche incanalato fino a avere successo C'è un po' quella sensazione lì E' chiaro che non stiamo parlando di Pavia, ma anzi stiamo parlando di Los Angeles Quindi comunque partiamo già da una città che un po' non dico che ti facilita le cose C'ha più mare C'ha più mare, sì E' l'oceano Però ecco, c'è comunque un po' la dimensione dei ragazzi che si ritrovano e iniziano a sperimentare col proprio talento Perché i primi esperimenti in questo senso Pharrelli fa a scuola, praticamente, con dei compagni di scuola Poi cosa succede? Che praticamente nello stesso isolato quasi Cioè, tipo davanti alla scuola o poco, insomma, o più o meno questo Si costruisce, si viene a trasferire una casa discografica Una casa di produzione discografica Che è la Futures E quindi praticamente lui che diceva io non sapevo bene a chi mi dovevo riferire A un certo punto, blam, arrivano questi esattamente davanti E da lì le cose, non dico che si fanno più facili Però sicuramente ha un contatto diretto Tra l'altro con questa casa discografica Fa una sorta di accordo con la scuola Per creare un talent show E già questo, voglio dire, a Pavia la vedo complessa Però comunque, insomma, iniziano ad innescarci la serie di processi Per cui loro attirano l'attenzione E poi tutto questo aumenta e cresce Voi dovete immaginare tutto questo con i Lego, ovviamente Che insomma già fa Animati Lego animati Che ci mostrano sia le scene, diciamo, tratte dalla vita di Farley Williams Quindi lui da ragazzino, la sua infanzia Ma anche la parte delle interviste E quindi tutti i personaggi che lui conosce I personaggi sia, diciamo, più famosi che meno famosi Fanno i genitori, no? Accompaiono sotto forma di personaggino Lego Che racconta la sua Però proprio con il tono, tra l'altro con la voce anche Delle persone intervistate Dentro nel documentario sono presenti Gwen Stefani I genitori di Farley Williams Snoop Dogg Con la scena, credo, più bella dell'anno E anche questo Il fattore Lego smorza anche E fa scavalcare Cioè Timbaland, Kendrick Lamar Cioè Timbaland, Kendrick Lamar Justin Timberlake Vabbè, Missy Elliot Che andava tipo a squadra sua Sì, Pusha T pure Era un amico Però appunto la scena con Snoop Dogg È, secondo me, la scena più bella E è più bella del film Adesso mi sbottono ancora uno di più Perché Sappiamo bene che Snoop Dogg Negli anni 90 O comunque quando non era il promoter degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi Era un simpatico pischello di libertà Ah sì Allora, per quanto come gli altri Lui non frega nulla di nasconderlo Questa è poi la parte principale Diciamo E per raccontare come hanno realizzato Come hanno lavorato insieme La fotografia di quel tempo Di quel luogo Di quegli scambi Avevano, diciamo Tutto un allure Anzi un alone Anzi proprio una Una cortina Molto Di nebbia Di nebbia fitta Di erba Sicuramente Qui In questo documentario Anzi no In questo film Di Morgan Neville Che tra l'altro Noi conosciamo molto bene Ma non sapevamo che fosse lui Il regista di queste cose Ma ne parliamo dopo Per contestualizzare Questa nebbia Presentissima Quando passa Snoop Dogg Ma anche quando vive Snoop Dogg Entra un personaggino Con una bomboletta Con scritto PG-13 Che è la La categorizzazione Del Del film Una sorta di censura Un po' un visto censura Che va bene Per tutti coloro Che sono Maggiori di 13 anni E come se fosse Una bomboletta Di Profumo per ambiente Anestetizza Ma anche un po' Ammorbidisce Tutte le Coloriture Mettiamole così Del presente Del passato Ma appunto È una scena incredibile Che tra l'altro appunto Soltanto attraverso Il Lego Potevi inserire Potevi creare Un altro Mezzo Beh Diciamo che il Lego aiuta Il Lego aiuta Morgan Neville Dicevo È un Regista e produttore Molto Ferrato dal punto di vista Musicale È produttore Di Crossfire Hurricane Per esempio Che magari dirà poco Ma 20 Feet from Stardom È un documentario Bellissimo Che abbiamo anche Raccontato più di una volta Sulla vita E sulle migliori Regoriste Coriste Vocaliste Sulle vocaliste Della storia della musica Ma è anche Appunto Ferratissimo dal punto di vista Dei documentari È colui che ha Realizzato A livello proprio di producer Di produttore Abstract L'arte del design Una serie bellissima Su Netflix E sempre su Netflix Song Exploder Quindi Con il mondo Del raccontare la musica Con appunto Seduti Raccontami come è nata Quella cosa O quella Quella canzone Quella canzone È sicuramente Molto 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 Ferrato Molto apile Lynn Castro Con Pharrell Williams Ha fatto sì Che appunto Pharrell Williams Sappiamo È proprio lui Stavo guardando La foto su Wikipedia Mi sono ricordata Il personaggino È molto somigliante C'è una somiglianza Tra l'altro Per esempio I genitori Hanno una versione giovane E una versione vecchia Il papà ha il pizzetto Oppure lui Sono una versione più ragazzina E una più grande Insomma Molto carino Molto divertente A me non è piaciuto però Sì È carino È divertente Però È comunque Allora Secondo me Il problema di questo Dopo film È che Forse è un po' diluito Allora Inoltre Però sono 1 ora e 33 Il difetto Maggiore È che Ok Arrivi tranquillamente Allora L'ora e 20 Anzi no L'ora L'ora e 10 Sì Ti seguo Con il mondo Dei Lego Con il mondo Che ti si crea È molto molto intelligente L'usare Raccontare Il lavoro Dei producer Attraverso La creazione Di quelle Che sono Effettivamente Vengono rappresentate Come delle gemmette Di Lego Che però Devi tenere Devi Crearle Suonarle Molta fatica Molta fatica Ma poi vanno dentro Una libreria Che poi Chissà Magari La prendi La porti Al tizio La dai A caio Crei E succedono cose Il tuo suono Insieme a un'altra persona Insieme Che produce Qualcos'altro Bellissimo E arrivi Allora Tranquillamente Probabilmente Probabilmente A livello Di storyline Di sceneggiatura Di dramma La storia Inizia Cioè Seguita proprio In ordine cronologico Pedissimo Dall'inizio Dalla nascita Fino 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 al presente Nella parte finale Proprio quando Arrivano i problemi E a un certo punto Spunta Una svolta Che magari Esattamente Get Lucky E altro Quel momento Di difficoltà Anche un po' Ilulcorato No Più che altro Non si può raccontare Tutto molto Precisamente Non si sa Anche A livello Di riservatezza Fare Williams Non è Per la prima volta Si sente la voce Della moglie Non si sapeva Neanche se fosse sposato Cioè Noi non lo sapevamo Non Vabbè Noi Vabbè Ok Però È molto Una persona Molto riservata Un artista Molto riservato Seppur Molto in vista Adesso È molto presente Anche nel mondo Della moda E non a caso Appunto Si creano Queste Queste Sinergie Con brand Come Lego Grazie alla sua Influenza La sua Potenza Anche dal punto di vista Appunto Dell'influenza Culturale Quindi È periodo Di Documenta Di Film Biografici Atipici Tra poco Arriverà quello Di Robbie Williams Tra l'altro Probabilmente Lo sapete Oppure Tra poco Lo sentirete Perché Il documentario Il documentario Il film Con Al centro La vita Di Robbie Williams Alton John Qui Piece by Piece È più Dalle parti Vogliamo fare Il documentario Sulla vita Tua Ma poi vivo Che è esattamente Quello che dicevamo All'inizio Che è esattamente Quello che probabilmente È successo Ed è È stato proposto Da fare Lo Williams Così Con un genio Al cinema È dal 5 dicembre In tutte le sale Piece by piece In tutte le sale No Che Sulla In 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 Grazie a tutti